il modello universale la sacra famiglia di padre luca maria genovese la sacra famiglia gesù giuseppe maria non è semplicemente un dato storico relativo alla vita di gesù ma un esempio universale ed irrefragabile della vita sociale come la pensata dio per noi la famiglia non è un'istituzione soggettiva che si possa modificare con il tempo nella sua struttura e funzionalità essa è una perché così pensata ab eterno nella dimora della santissima trinità gesù giuseppe maria incarnano perfettamente l'ideale divino e lo vivono nel tempo fino alla fine la famiglia è sacra oltre che per la santità dei membri anche per la santità dell'istituzione che come sacerdozio l'eucaristia e gli altri sacramenti è uscita così come dalla suprema disposizione divina ciò non impedisce nella sacra famiglia il tortuoso svolgersi degli avvenimenti umani leggiamo nel vangelo il brano della scomparsa di gesù a gerusalemme che getta nell'angoscia i suoi genitori cos'è questo evento apparentemente doloroso se non l'irrompere di dio nella vita quotidiana di una tranquilla e religiosa famiglia di provincia a un certo punto sembra che gli equilibri siano sconvolti in realtà l'azione di dio è sempre travolgente perché ci vuole portare sempre più in alto di dove siamo la meta è lui l'infinito l'altissimo al di là di ogni pensiero di ogni programma umanamente spiegabile e comprensibile così la sacra famiglia si trova ad interagire con il piano di dio su di lei all'inizio questo provoca smarrimento scompenso mancanza di senso anche noi legati come siamo i nostri principi terreni stabili e intoccabili non ci vogliamo mai aprire alla novità dell'azione di dio così suona scandaloso nelle famiglie di oggi se uno dei figli o addirittura il figlio unico sceglie la strada della vita religiosa o sacerdotale sembra una diminuzione della personalità e della dignità umana di quell'elemento o di tutta la famiglia alla quale appartiene questo la dice lunga sul senso cristiano e sopranaturale delle nostre famiglie d'oggi sembra infatti che le famiglie siano come delle piccole repubbliche autonome quando va bene o altrimenti il crocevia delle sperimentazioni più strane e anticonformiste per vivere più degnamenti e schiavi del proprio io l'egoismo umano ha inquinato il senso sacro e sopranaturale della famiglia e la sacra famiglia non è più vista come un modello perenne per la propria vita familiare ma al massimo una temporanea determinazione storica dell'ideale familiare in continua evoluzione in ogni tempo ciò denota la mancanza di fede con cui si affrontano le questioni relative alla divina rivelazione prima fra tutte quella della famiglia già ai tempi di gesù sembrava lecito adattarsi ai tempi e considerare il ripudio come permesso dalla legge mosaica per giustificare qualsiasi motivo di divorzio in ottemperanza le cose che la legge scritta aveva concesso è lecito ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo matteo 19 3 ciò che oggi viene chiamato adeguamento ai tempi dal signore è stato chiamato durezza di cuore per la durezza del vostro cuore moseo ha permesso di ripudiare le vostre mogli ma da principio non fu così matteo 19 8 per una famiglia unita e salda occorre allora liberarsi della durezza di cuore cioè delle idee senza cuore senza dio partorite da una pseudo modernità la vera modernità è gesù cristo è lui che ha donato alla sua chiesa non solo idee ma forza intelligenza discernimento per essere salda nei pericoli nelle angustie della vita la grande riforma del matrimonio operata da gesù altro non fu che un ritorno alle origini a quando il matrimonio fra persone umane fu pensato per la prima volta da dio non avete letto che il creatore da principio li creò maschio e femmine disse per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola così che non sono più due ma una carne sola quello dunque che dio ha congiunto l'uomo non lo separi matteo 19 4 la modernità è tornare al principio cioè tornare a dio che ha fatto e pensato ogni cosa prima di noi non si può poi opporre come giustificazione che le difficoltà oggi sono aumentate che la cultura è ostile al matrimonio che le istituzioni sono contrarie anche ai tempi di gesù il matrimonio soffriva gravi colpi basti pensare alla strage degli innocenti perpetrata dal tiranno erode per eliminare gesù le disavventure mettevano alla prova anche la santa famiglia tuttavia con la fede ed una ricerca costante del bene anche il disagio della scomparsa di gesù a gerusalemme ha potuto essere superato se nella famiglia persiste il sensum fidei ovvero la preghiera coltivata e vissuta insieme alla presenza di dio vero autore della famiglia anche le croci e le disavventure è possibile raccogliere dalle mani di dio come un dono per il bene superiore e soprannaturale della famiglia stessa famiglia domus dei famiglia è la casa di dio scrive il beato alcuino intendendo che nella famiglia tutto deve essere come nella chiesa e di modo speciale nel santo sacrificio della messa ove tutto l'amore di dio viene effuso per i suoi figli nel sangue di cristo redentore con l'ausilio della vergine immacolata grazie a tutti